Si cambia a governare una regione in un momento difficilissimo. Sì, ma anche un momento di grande opportunità, perché è vero che i soldi non arrivano il 22 di luglio, ma è anche vero che nel quinquennio il Veneto riceverà dei flussi di denaro, in parte, e in parte è importante perché se parliamo di 82 miliardi, vuoto per pieno, sono 4 miliardi nel Veneto, a fondo perduto. E quando mai il Veneto ha visto un ingresso di 4 miliardi gratis? Più il resto attraverso i meccanismi di restituzione. Cioè il presidente del Veneto del prossimo quinquennio si candida a gestire un flusso di denaro di una decina di miliardi extra rispetto al budget. È un'occasione storica per sistemare le magagne che abbiamo e per rilanciare la nostra economia. Ma ci vuole una visione lucida. Non dobbiamo gestire, dobbiamo avere un programma chiaro. Io sto preparando i punti. Una volta che capiamo quanto è l'importo che il presidente Conte... Ah, cioè lei farebbe già il piano per il Veneto delle Corri Fund? Ma stiamo scherzando. Dobbiamo andare da Conte e dire che queste sono le modalità di utilizzo della Regione Veneto. E guarda che siamo arrivati per primi. Per cui tiene conto nella ripartizione. Noi siamo pronti, abbiamo i progetti, abbiamo le idee chiare. Metti sul tavolo quello che ti riconosciamo di aver portato a casa in Europa. Ma noi siamo pronti. Siamo pronti con i progetti, siamo pronti con la gestione degli appalti. E dobbiamo giocare questo momento perché si gioca la competitività tra le regioni europee. E il Veneto deve essere primo. Primo di tutti. Prima della Lombardia, prima delle altre regioni. Non perché siamo contro di loro, ma perché il nostro territorio ha la capacità di essere reattivo. Sistemare la sanità, sistemare l'ambiente, sistemare tutta l'edilizia pubblica, sistemare le scuole. Sai quante scuole non sono a sicurezza sismica nel Veneto? A me tremano le vene quando ci penso che i nostri ragazzi non sono in edifici a sicurezza sismica. Cioè tutte queste cose dobbiamo farle adesso perché creiamo lavoro, creiamo una migliore qualità dell'ambiente, creiamo delle prospettive per i nostri giovani e possiamo veramente cogliere questo momento drammatico della nostra storia, perché di dramma stiamo parlando primo semestre 2020, come un'opportunità di rilancio.